La trattativa per la cessione della Teramo Calcio come sulle montagne russe. A colpi di comunicati, la strada che pareva spianata adesso si complica. È effetto del rialzo imprevisto di qualche giorno fa di Franco Iachini, che si dice interessato a rilevare le quote della società bianco-rossa, ma solo ad una condizione. Il problema è che l'offerta per la gestione dello stadio Bonolis prescinde dalle intese definite nella convenzione con il comune di Teramo. In più, l'offerta che il gestore dell'impianto reputa risibile e inaccettabile, senza però chiudere la porta ad un incontro che invece Iachini non sembra volere. Pare infatti che abbia confidato che il suo è un prendere o lasciare, o così o nulla. E questo è uno scoglio molto grosso al raggiungimento di un accordo che doveva essere a due Iachini-Campitelli e che due hanno reso tripartito. Ma da questa situazione Campitelli si è chiamato subito fuori, lascia la squadra anche nelle mani del sindaco se tutto dovesse saltare. E in questo modo la palla torna in gioco, ancora col comune che aspetta e valuta gli sviluppi della situazione. Attento com'è, perché conscio di cosa è scritto nelle carte firmate nel momento della costruzione dell'impianto. Ecco il perché della prudenza di Gian Guido d'Alberto, che sa quali sono le stime reali dell'operazione. In questo momento il primo cittadino preferisce non entrare nel merito della vicenda per vedere cosa succederà, ma qualche indiscrezione parla di una vicenda che Iachini potrebbe presto lasciar perdere, anche considerando che non si aspettava una situazione debitoria tale della società biancorossa, come ha ammesso in maniera limpida nel primo dei due comunicati dinamati in poche ore. Una squadra che ha ancora 23 giorni di tempo per iscriversi e che o vede un ammorbidimento generale di toni oppure rischia di fare una sola vittima, il teramo stesso, di cui sembra importare poco a tutti, una squadra a cui si sono avvicinati in tanti e che nessuno rischia di prendere. Strano davvero il calcio, sembra un balzo indietro di anni. Il 100%, il 50%, il 49%, il 20%, di numeri se ne sono fatti tanti, ma nessuno sa che valore abbiano. Così come nessuno sa che valore abbiano i 17 anni di gestione del Bonolis. Si continua a colpi di botte risposta e a rimetterci sono e soprattutto saranno davvero tutti.